Allora, inizio con questa slide, la regolazione della fame e dei processi fisiologici che ne inducono stimolazione o inibizione è un meccanismo talmente complesso e vasto che vede protagonisti i meccanismi di stimolazioni endocrine e nervose così tanto interconnesse tra loro che ad oggi risulta difficilissimo riuscire a comprendere appieno tali meccanismi. Io cercherò ovviamente di descrivervi alcuni di questi meccanismi ma sappiate che la regolazione neurologica ed endocrina dell'appetito, della stimolazione e dell'inibizione di questi processi sono delle regolazioni talmente complesse che soltanto per questo dovremmo fare un videocorso, quindi per farvi comprendere. Ovviamente in un corso di fisiologia pesante come questo è richiesta una certa conoscenza di tali regolazioni ma non a un punto tale da dedicare un intero videocorso. Quindi vediamo un po' prima, cercherò di spiegarvi questo argomento siccome può risultare un attimino essere contorto cercherò di presentarvi i protagonisti da un punto di vista anatomico, l'anatomia quindi vi ho già detto che dovete conoscerla e quali sono gli ormoni o i neurotrasmettitori che sono coinvolti e poi vediamo che cosa fanno.